Buongiorno, sono Jacopo Bulgarini, ho 21 anni e solo di Verona. Al momento frequento il terzo anno del corso di studi internazionali all'Università di Trento e l'ottavo anno del corso tradizionale di Viola al Conservatorio di Verona. Con quest'ultima crisi abbiamo tutti osservato e capito quanto le nazioni, specialmente quelle europee, siano legate e interdipendenti fra di loro. Comprendere e analizzare questi fenomeni risulta sempre più importante al giorno d'oggi. Ebbene, uno dei motivi che più mi hanno spinto a candidarmi alla scuola di politica è il suo forte spirito europeo. Pensare alla politica italiana senza guardare a quella che è la nostra patria, l'Unione Europea, risulta del tutto inutile. In questo senso penso che la scuola di politica non potrà far altro che arricchire il mio bagaglio culturale. Confrontarmi con ragazzi della mia età, condividere idee, passioni e imparare da figure di spicco della politica italiana sarà un'occasione unica per mettere in pratica ciò che ho studiato e ciò che continuerò a studiare. Grazie dell'attenzione e a presto!